Salve a tutti, popolo del web, rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme, serie A, in programma c'era Torino, Samp, ne discuteremo tra qualche istante, non dimenticatevi di mettere like al video, cosa molto importante, iscriversi al canale per non perdere le news dei video, serie A, in programma c'era Torino, Samp, la Samp si spinge in avanti con Ramirez, ma Siricu non si fa sopprendere, ci prova il Torino, Simone e Verdi in aria di rigore, non si fa pregare due volte, Torino in vantaggio, 1-0, la Samp su punizioni segna il gol dell'1-1 con Ramirez, sempre la Samp, Guagliarella, Ramirez fanno un 1-2 e Ramirez non si fa pregare, segna il 2-1, Itzo atterra Fabio Guagliarella in aria di rigore, l'arbitro espelle Itzo e dà il rigore alla Samp, sul dischetto si presenta Fabio Guagliarella che non si fa pregare due volte e segna il 3-1 definitivo, di certo il nuovo allenatore del Torino non è che sia partito molto bene, di certo Moreno Longo all'esordio non è che sia partito molto bene, ne avrà di tempo per rifarsi, complimenti alla Samp per la vittoria, Ramirez Guagliarella dall'1-0 per il Torino all'1-3 definitivo, complimenti per la doppietta di Ramirez, siamo giunti al termine di questo nuovo video, guagliù, ma raccomando condividiamo i video con quei social, Facebook, Twitter e Instagram, io vi voglio bene a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video. Grazie 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 Grazie